Yuhuu! Olga! Nina! Venite qui! C'è una cosa che voglio farvi vedere! Ok! E beh! E adesso? Ehi! Mamma, che succede? È la festa dell'amicizia! Per te, Olga! Cosa? Veramente? Ho chiesto a Rosa di aiutarmi a ragionare tutti! Volevo che ti rendessi conto di quanto sia importante per tutti noi la tua amicizia! Oh! Mi ringrazio, amici miei! Grazie per questa giornata! No! Non immaginavo di avere così tanti amici, ma che bello! Visto? Non ti servono dei braccialetti dell'amicizia! E adesso facciamo festa! Ehi! Facciamo festa!